Credo che in questa occasione vale quello che dovrebbe essere uno stile di vita per tutti, non solo per i credenti. Il coraggio di saper condividere. In questo momento, al di là della possibilità di trovare una soluzione al gravissimo problema della disoccupazione, su questo ci stiamo lavorando, perlomeno davvero stiamo cercando di sollecitare più che possibile i vari componenti che hanno anche una diretta o indiretta responsabilità, penso che quello che tutti possiamo fare è di saper condividere qualcosa del nostro perché tutti possiamo nella condivisione stare un po' meglio. Vorrei che questo messaggio arrivasse a quelli che vivono una certa sicurezza nella loro vita. Certo ai poveri, chiaramente alle famiglie povere, che cosa potrei dire? Invece a quegli altri dico cercate di solidarizzare un po' di più e questo sicuramente potrà aiutare anche loro. Ma la soluzione per queste famiglie bisognose non è il pagamento della bolletta o il pacchetto che diamo in questo periodo, anche se questo sicuramente è un refrigerio. Credo che la soluzione sia in una duplice direzione. Da una parte che effettivamente, mi riferisco ai credenti, sappiano veramente condividere il loro affetto. Cosa vuol dire? Perché non si potrebbe invitare una famiglia povera alla propria mensa? Questa è una domanda che a mio parere vorrei lasciare sospesa. E poi nell'altra direzione, quindi una dimostrazione di affetto. Poi nell'altro, certo, nella misura in cui il Signore fa capire che questo è il cammino, quello della solidarietà, avere il coraggio di saper dimezzare le proprie risorse. Io so che si vive, almeno in alcune frange della società, con risorse davvero molto, diciamo, ispessite, come dire, troppo alte. Questo a mio parere non è un modo per poter tentare una soluzione definitiva. Cioè, finché, voglio dire, adesso voglio essere più esplicito, finché c'è qualcuno nella storia dell'umanità che riesce a prendere più di 4, 5, 6 mila euro al mese in su, evidentemente è chiaro che purtroppo ci saranno sempre persone che evidentemente vivranno nella povertà. È così. Questa è una logica delle cose, ma una logica mondana, una logica, a mio parere, che appartiene al daimonon, cioè a quella forza demoniaca che è fondamentalmente legata all'egoismo di noi tutti.